E' stato assente sabato scorso all'Aula Consigliare di Palazzo San Francesco il sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli, che all'indomani della contestazione e degli insulti della città al presidente della regione Abruzzo, l'Oceano D'Alfonso, bacchetta proprio il governatore. Per il sindaco, soprattutto la luce della protesta da parte dei cittadini che c'era stata giovedì scorso, nel corso del Consiglio regionale, dove la maggioranza è andata sotto, proprio sui punti nascita, D'Alfonso doveva venire a Sulmona in maniera istituzionale, portando delle proposte concrete. E' stata una pulcinellata, venire a Sulmona in quel modo, senza rispetto delle istituzioni, è stato sbagliato e avventato. Un comportamento che va condannato, come vanno condannati gli atteggiamenti di violenza, messi in atto da alcuni componenti, reccomitato contro la chiusura del punto nascita di Sulmona, sostiene il sindaco Ranalli. In realtà il presidente della regione è uscito dalla residenza municipale sotto assedio fra insulti e fischi, ma non è stato aggredito. Le forze dell'ordine lo hanno scortato fino al casello autostradale di Prato-La Peligna. Noi in comune non sapevamo nulla, prosegue Primo Cittadino, e sfidare in quel modo la folla, ribadendo che il punto nascita sarà chiuso, è stato molto pericoloso. Noi però non molliamo e lotteremo fino alla fine perché il punto nascita di Sulmona sia salvato, così come il nostro ospedale. Il sindaco Ranalli ha quindi annunciato a Lanza che chiederà al direttore generale della ASLE Giancarlo Silveri il rispetto dell'accordo di programma sottoscritto alcuni mesi fa, che prevede la realizzazione del nuovo blocco operatorio, tra cui la sala Parto, per una spesa di 10 milioni di euro e la realizzazione del nuovo blocco ospedaliero, i cui lavori sono già iniziati. Come comune abbiamo investito delle consistenti risorse economiche tra espropri e opere di urbanizzazione, conclude Ranalli. E se non sarà rispettato il programma sottoscritto, invieremo tutta la documentazione alla Corte dei Conti.